Avete ascoltato, avete sentito? Le incredibili emozioni e sensazioni descritte dalle mani e dall'anima di Maurizio Benedetta, fratelli e sorelle d'Italia, uniamoci anche questa volta nel segno della fiamma progressiva. La fiamma che produrrà luce e luce vita nell'universo! Su le mani, Barasasa! La fiamma che produrrà luce vita nell'universo! La grande sfidata!